Allora, mi chiamo Andrea e sono fondatore di Uribu, è una start-up sociale. Praticamente grazie a Uribu puoi segnalare i disservizi e i sopplusi che ti capitano nel quotidiano, quindi magari incontri una buca per strada oppure hai un problema con il trasporto pubblico. Questa piattaforma è un metodo trasparente per segnalare questi problemi. La piattaforma è completamente gratuita, offre alle aziende e alle pubbliche amministrazioni e ai giornali un back-end per prendere le segnalazioni che gli interessano di più. Per esempio, il comune di Roma interessa solo le segnalazioni in Roma, quindi noi offriamo questo back-end dove loro possono interagire con gli utenti che hanno fatto le segnalazioni e dire in che stato è la segnalazione. Per esempio, una buca, se viene risolta, possono mettere che la buca è stata opportunamente aggiustata e quindi avere un riscontro positivo a livello pubblico. Siamo partiti a fine febbraio, adesso abbiamo rilasciato l'app per Android, abbiamo ricevuto un premio istituzionale come miglior sito dell'anno 2012 per i cittadini. Siamo stati abbastanza fortunati perché abbiamo avuto una buona copertura a livello di giornali. Adesso stiamo provando ad andare avanti, siamo senza fondi, siamo no profit, cercheremo di fare il nostro meglio per esportare anche il nostro modello fuori dall'Italia.